Grazie per la tua fiducia in Beri Sur Italia. Il nostro esperto di sicurezza effettuerà la visita entro le prossime 24 ore per effettuare uno studio di sicurezza personalizzato della tua abitazione che segua le normative vigenti. Accompagni il nostro esperto di sicurezza durante la valutazione dei rischi della tua casa. Ti darà informazioni sulla pericolosità della tua zona, sui punti vulnerabili della tua abitazione e sui punti d'accesso che necessitano di una protezione extra. L'allarme Beri Sur include registrazione di immagini, avviso alle guardie giurate, garanzia in manutenzione a vita. Il nostro allarme è sempre connesso con la centrale operativa. Più di 500 esperti di sicurezza per la protezione della tua casa per garantire il rapido intervento in caso di furto o di emergenza. L'installazione del tuo allarme potrà realizzarsi lo stesso giorno, in maniera semplice, senza la necessità di effettuare opere murarie. Una volta installata, il nostro esperto di sicurezza ti spiegherà come attivare o disattivare il tuo allarme. Per questo è importante che siano presenti i membri della famiglia, in modo che tutti imparino ad usarlo. Beri Sur. Sa come proteggere ciò che ami. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.